buonasera o buongiorno fratelli e sorelle allora anche per questa settimana un commento alle letture che ascolteremo domenica prossima questa settimana sarà un po un commento particolare è un po forse anche un pochino più tecnico perché il contenuto della parola di dio di questa domenica non è poi che sia molto rilevante allora ho preso l'occasione per dare alcune informazioni un po più tecniche ma intanto passiamo subito alla lettura dei testi la prima lettura è tratta dal libro del deuteronomio infatti dopo dirò due parole sul libro del deuteronomio mosè parlò al popolo dicendo il signore tuo dio susciterà per te in mezzo a te tra i tuoi fratelli un profeta pari a me a lui darete ascolto avrai così quanto hai chiesto al signore tuo dio sull'oreb il giorno dell'assemblea dicendo che io non ho da più la voce del signore mio dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia il signore mi rispose quello che hanno detto va bene io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome io gliene domanderò conto ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire o che parlerà in nome di altri dei quel profeta dovrà morire parola di dio e ora andiamo a leggere la seconda lettura è sempre tratta dalla prima lettera di san paolo apostolo ai corinzi è la diretta continuazione del brano che abbiamo ascoltato domenica passata e domenica prossima ascolteremo i versetti da 32 a 35 sempre del capitolo 7 anche su questo capitolo poi dirò qualche cosa fratelli io vorrei che foste senza preoccupazioni chi non è sposato si preoccupa delle cose del signore come possa piacere al signore chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere alla moglie e si trova diviso così la donna non sposata come la vergine si preoccupa delle cose del signore per essere santa nel corpo e nello spirito la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al marito questo lo dico per il vostro bene non per gettarvi un laccio ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al signore senza deviazioni parola di dio e ora veniamo al vangelo anche qui ascolteremo il vangelo di marco la continuazione del brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa sempre dal capitolo 1 del vangelo di marco in quel tempo gesù entrato di sana di sabato nella sinagoga a cafarnao insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi ed ecco nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi gesù nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di dio e gesù gli ordinò severamente taci esci da lui e lo spirito impuro straziandolo e gridando forte usci da lui tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo un insegnamento nuovo dato con autorità comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della galilea parola del signore ecco allora come al solito a chi interessa soltanto aver letto insieme le letture di domenica prossima possiamo fermarci qui a chi interessa invece avere un commento possiamo andare avanti nella spiegazione e nel commento appunto delle letture di domenica prossima allora prendiamo in esame questo libro del deuteronomio vorrei dire anche due o tre cosette su questo libro che è un po' strano anche il nome è un po' strano deuteronomio che dal greco significa seconda legge deuteros nomos ora a dir la verità potremmo dire che è un po' una titolazione infelice questa data al deuteronomio purtroppo nella traduzione greca dei cosiddetti 70 i libri della bibbia li hanno intitolati facendo riferimento al contenuto del libro non è così per la bibbia ebraica la bibbia ebraica invece titola i propri libri dalla prima parola del testo è un po' come noi siamo soliti sentire ad esempio per le encicliche del papa o per i documenti del magistero della chiesa di solito sono intitolati con le prime parole a tutti noi viene in mente no la la dei verbum la lumen gentium del concilio vaticano secondo oppure la nostra anche più recente evangelii gaudium di papa francesco vengono intitolate dalle prime parole del testo latino del documento in questione così facevano gli ebrei per dare il titolo ai libri della bibbia infatti il nostro libro cioè quello che noi chiamiamo il libro della genesi in realtà per gli ebrei è il libro del bereshit che vuol dire inizio che è la prima parola del libro della genesi così come allora appunto il libro del deuteronomio deuteronomio gli ebrei non lo chiamano il libro della seconda legge e lo chiamano il libro delle parole perché le prime parole appunto del libro del deuteronomio sono proprio questo e le a devarim queste sono le parole a devarim le parole devarim parole quindi è il libro delle parole non è il libro della seconda legge allora mi direte da dove viene fuori è questa questa parola da dove se lo sono inventata i i traduttori della traduzione dei settanta questo titolo un po perché effettivamente nel libro del del deuteronomio è al capitolo 17 versetto 18 si dice questa è una copia della legge e allora ha indotto i 70 a dare questo contenuto al libro intendendolo come una copia della legge perché perché in realtà il libro del deuteronomio riprende un po la storia di israele e alcuni contenuti che erano già stati espressi nel libro dell'esodo però noi cogliamo degli aspetti anche nuovi nella esposizione del libro del deuteronomio questo libro riprende le tematiche dell'esodo ma un po le come dire le amplifica le approfondisce ed è questa una tecnica che è dell'ebraismo cioè questa di riprendere le cose e di ripeterle perché nel ripetere anche le stesse cose noi siamo chiamati a trovarci sempre cose nuove se ci pensate è un po quello che noi siamo chiamati a fare soprattutto nella liturgia perché ripetiamo i gesti liturgici talvolta si possono un po anche annoiare però li ripetiamo perché in nel ripetere il gesto noi rinnoviamo e approfondiamo il contenuto di quel gesto stesso la nostra celebrazione domenicale dovrebbe essere un riproporre ma un riproporre in maniera sempre più bella più forte e più approfondita il gesto che il signore nelle carestia ci ha lasciato e poi allora possiamo anche dire come si struttura il libro del deuteronomio tradizionalmente l'ebraismo ci presenta il deuteronomio oppure il libro delle parole usando il titolo ebraico come tre grandi discorsi che mosè avrebbe pronunciato prima della sua morte quindi prima della sua morte mosè avrebbe ridetto agli israeliti quello che è stato fatto come avvenuto l'esodo e avrebbe ulteriormente precisata la fedeltà all'alleanza questa è la tradizione ovviamente ora non entro nel nell'ambito e nel tema della composizione del libro del deuteronomio e la composizione del pentateuco se no ci vorrebbe una serata per dire questo però questo libro ha visto la sua redazione finale intorno al quinto sesto secolo con appunto il circolo che noi chiamiamo il circolo dei maestri dei rabbini della scuola deuteronomista ovviamente la chiamiamo così perché è il circolo che ha dato luogo alla teologia che scaturisce dal libro del deuteronomio detto questo il nostro brano di oggi su cosa verte verte sulla figura allora del profeta avete sentito ed è chiaro allora il riferimento che chi ha scelto questa lettura per questa domenica ha voluto fare tenendo conto il vangelo nel vangelo marco come avete sentito ci presenta gesù che intanto insegna la sua prima funzione è quella di insegnare entra nella sinagoga e insegna quindi è colui che parla di dio che lui colui che parla a nome di dio ed è chiaro allora appunto il riferimento al vangelo dopo vedremo appunto nel vangelo che marco che ci vuol dare allora subito questa immagine è chi è gesù gesù intanto è un profeta è colui che parla a nome di dio ma quest'ora lo vedremo quando commenteremo il vangelo a mi ero dimenticato una particolarità abbiamo detto che il libro del deuteronomio in realtà si intitola a debarim debarim le parole o debarim è alla stessa radice del nome debora che in realtà debora in ebraico vuol dire ape l'animaletto è ape però c'è chi sostiene che il nome debora che ha la stessa radice del del nome parola da bar sono le tre consonanti sono le stesse tre consonanti perché forse come saprete l'ebraico non conosce le vocali l'ebraico è fatto soltanto di consonanti e sì di alcuni altri segni che sono diciamo equiparabili a qualche vocale ma di per sé l'ebraico l'alfabeto ebraico non ha consonanti infatti nelle parole ebraiche noi che non sappiamo leggere l'ebraico ci dobbiamo mettere dei segnettini vi faccio qui in esempio vedete ci sono quei puntini sotto quella lineettina quelle perché a noi sono dei segnettini che ci servono per sapere la giusta vocale da pronunciare perché se anche l'alfabeto ebraico non ha vocali non vuol dire che la lingua ebraico non abbia le vocali ce l'ha le vocali e noi appunto non sappiamo leggere l'ebraico quindi abbiamo bisogno di questo aiuto io quando andai in israele e se andate in israele vedrete che quei puntini sotto le parole non ci sono se comprate un giornale ebraico non ha quei puntini è soltanto chi ha nel nel suono la la lingua ebraica sa mettere le vocali giuste noi non lo sappiamo fare appunto dicevo la parola il nome debora molto probabilmente viene dalla stessa ragione radice di dabar per cui c'è chi sostiene ho trovato un articolo di una certa di una biblista donna analisa guida che riprende a sua volta un articolo di un certo demur il quale sostiene che il nome debora si può far risalire anche alla radice della parola da bar quindi traducendo come la donna della parola importante quindi se tra voi c'è qualcuno che o qualcuna che si chiama debora è la donna della parola e questo c'è un riferimento anche alla profetessa debora che troviamo nel libro dei giudici al capitolo 4 chiusa parentesi ho la seconda lettura però la seconda lettura affronta un tema un po troppo grosso e allora se no qui mi diventa un video enorme e poi non lo guardate allora a chi interessa facciamo così farò un video a parte magari anche subito la prossima settimana sul capitolo 7 della lettera della prima lettera di san paolo apostolo ai corinzi dove tratta il problema matrimonio verginità eccetera eccetera è troppo grosso non si può spiegare in tre parole quindi preferisco fare un video a parte e quindi allora andiamo subito a prendere in esame un po il vangelo anche qui poche parole perché poi come al solito un commento un po più diciamo pastorale spirituale lo farò nell'omelia alla messa oggi un paio di cose tecniche questo vangelo verte su due vocaboli importanti il primo è quello che qui viene tradotto autorità infatti gli astanti si stupiscono dell'insegnamento di gesù e già prima all'inizio l'evangelista commenta e dice egli infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scrivi quindi questa prima parola che poi ritroviamo anche in fondo perché in fondo marco fa dire la stessa cosa direttamente ai presenti quando al versetto 27 dice tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo un insegnamento nuovo dato con autorità e si usa la stessa parola che in greco è exusia questa parola vuol dire però anche potenza allora qui l'autorità non è da intendersi come autoritarismo qui autorità è da intendersi nel senso di colui che sa fare le cose ha il potere di fare le cose non solo ha il potere di fare le cose ma è uno come si direbbe oggi nel nostro modo di dire è uno che che è padrone di ciò che sta facendo a padronanza come uno che ha dimestichezza come uno che dimostra familiarità con quello che sta dicendo e con quello che sta facendo quindi l'autorevolezza dell'insegnamento di gesù viene perché le persone scoprono che gesù è un tutt'uno è affine fa capire che la sallunga su quello che insegna e su quello che fa non è un mestierante non è colui che ripete a pappagallo le cose molto probabilmente questa la sottile critica che il vangelo rivolge agli scrivi del tempo perché un po forse è le ritiene come persone che parlano un po perché hanno imparato le cose basta che che ripetono un po le cose che hanno letto e imparato ma non danno l'idea di essere pienamente uniti e pienamente spinti da 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 ciò che dicono e da ciò che insegnano forse l'esperienza che facevano era era un'esperienza di persone che erano chiamati lì a dire quelle cose e lo facevano soltanto appunto per mestiere la seconda parola che troviamo è quando poi si dice che al del sempre al versetto 27 tutti furono presi da timore ecco qui su questa parola bisogna precisare perché qui timore non è nel senso di paura ma infatti la parola è tambeo dal verbo tambeo ma è quel timore diciamo così che deriva chiamiamolo timore reverenziale è quel timore che che deriva dallo stupirsi da dall'essere meravigliati dal guardare con meraviglia certo alle volte degli eventi straordinari prodigiosi meravigliosi e no ci mettono un pochino per la prensione quel misto tra appunto non voglio di paura ma insomma ci fanno vivere quell'esperienza che ci carica che ci dà quelle quell'esperienza particolare per cui sappiamo di vivere un'esperienza del tutto unica e particolare questo credo che voglia dire quando le persone appunto dice l'evangelista furono prese da timore e quindi proprio questa questo vivere l'esperienza particolare gli faceva porre delle domande chi è mai questo e allora termino l'esperienza del commento sul vangelo proprio dando un po un là che poi riprenderò all'omelia vi ho detto domenica spucorsa che matteo è il vangelo del catecumeno scusate marco è il vangelo del catecumeno il vangelo di marco vuol portare il lettore a domandarsi chi è questo gesù e appunto poi a darsi una risposta vedete già in questo brano intanto già al colui posseduto dallo spirito fa dire io so chi tu sei il santo di dio è una prima risposta anche se data in maniera diciamo particolare infatti gesù non prende posizione su questa risposta non dice hai detto male hai detto bene però effettivamente intanto è una prima risposta indiretta che marco che marco ci dà attraverso questo espediente io so chi tu sei il santo di dio che poi è vero questo e poi in fondo appunto no quando le persone si domandano che è mai questo è la stessa domanda che ogni credente dovrebbe farsi di fronte alla lettura del vangelo e di fronte all'esperienza cristiana e di fronte alla persona di gesù chi è gesù chi è questa persona che riesce ancora ad affascinarci ecco allora fratelli terminiamo questo commento anche per questa settimana e quindi vi aspetto domenica alla messa oppure seguirla in streaming alle ore 10 e 30 grazie a tutti